La Giunta regionale ha varato una proposta di legge per un nuovo codice del commercio che sostituisca quello risalente a 2005. I punti salienti del documento riguardano l'apertura dei grandi centri commerciali in cui la Regione torna ad avere un ruolo attivo nella concessione dei permessi, la promozione e l'incremento dei centri commerciali naturali e una maggiore regolamentazione per quanto riguarda fiere e sagre. Il testo è stato discusso anche con le associazioni di categoria. Chiude un ciclo iper liberista contro cui noi ci siamo posti, voluto dal Governo nazionale a partire da Monti in poi, della totale liberalizzazione nel rilascio delle licenze, soprattutto della grande distribuzione. Un altro aspetto da valorizzare nei centri toscani è quello dei mercatali della filiera corta nell'agricoltura. Per quanto riguarda sagre e fiere, l'assessore regionale al commercio Cioffo ha specificato che le modifiche sono state sollecitate anche dalle associazioni di categoria. Il mondo dell'associazionismo, delle fiere e delle sagre va mantenuto. Ma in questo si è infilata nel tempo un'attività di impresa, spuria, non emergente, che magari dietro al marchio di un'associazione sportiva piazza una fiera all'inizio di giugno e la chiude a settembre, in totale ombra rispetto a tutto un quadro normativo e disciplinare che magari un punto di ristoro ufficiale deve rispettare rigorosamente a tre passi. Adesso la proposta di legge passa al vaglio del Consiglio regionale.